Cari amici di Pavia Play, io sono Carlotta e vi do il benvenuto a Events Play, la rubrica che vi tiene aggiornati sui migliori eventi del weekend. Nella città di Pavia segnaliamo, in data 15 ottobre, lo spettacolo Il mio grosso grasso matrimonio a Torre del Greco, presso il Cineteatro Cesare Volta. Un dramma comico che vi farà sorridere e il cui ricavato sarà devoluto all'emergenza umanitaria causata dalla guerra in Ucraina. L'Università di Pavia, invece, sarà sede del Festival del Turismo responsabile Itaga, iniziativa giunta ormai alla quattordicesima edizione che ci farà riscoprire come proiettare il mondo della tradizione verso il futuro. Infine segnaliamo un paio di mostri molto interessanti che non potete assolutamente perdervi. Cosmos, Museo di Storia Naturale dell'Università di Pavia, infatti, ospiterà Kryptos, un percorso attraverso il mimetismo degli animali in natura grazie alla presenza di esemplari vivi all'interno di appositi terrari. Mentre il proletto sarà sede di documenti di pietra, tracce del passato, segni del presente. Una mostra fotografica con scatti d'archivio che sottolineerà come si sono evoluti la sede centrale dell'Università di Pavia e il quartiere circostante nel corso del tempo. Spostandoci nella città di Milano, invece, segnaliamo la festa d'autunno presso Lambrate, contatto di mercatini, workshop sul tema dell'utopia, laboratori interattivi per bambini, corsi di giocoleria aperti a tutti, letture dei tarocchi e aree relax, dove potrete degustare tutte le proposte gastronomiche dell'iniziativa. Il Superstudio Maxi sarà inoltre sede di Bim Bim Fiera. L'appuntamento è dedicato a bambini e famiglie con workshop e corsi studiati per papà e mamme, mentre per i più piccoli ci saranno parchi giochi, spettacoli e attività varie. Gli appassionati di musica e concerti, inoltre, non possono proprio perdere il concerto di Alan Walker presso l'Alcatraz in data 15 ottobre e, nella stessa serata, l'esimizione di Ghegnani presso il Mediorano di Forum. Infine, segnaliamo un appuntamento particolarmente significativo nell'Interland milanese. La cittadina di Baggio sarà infatti sede della Sagra Annuale, iniziativa ricca di cultura, con talk specifici legati al tema della legalità, sport e intrattenimento e tanta, tanta musica per tutti. Vi ricordo che, qualora desideriate pubblicizzare il vostro evento qui, su Pavia Play, è possibile farlo contattandoci presso i nostri canali WhatsApp, Telegram e Messenger. Da Events Play per questa settimana è tutto, buoni eventi e buon weekend!